Vincere e vinceremo! Non sei un herò, sei solo un corpo di corso. Non hai un'ora, il lavoro va a continuare, tempo a morire. God bless you, don't believe me. God bless America. Continuiamo la nostra campagna con un oro. È il momento di armarci il più possibile con sei divisioni, perché due andranno a Rockcast, due a Chicago e due a Freeport per difendere la posizione, ecco. Tanto onestamente ce lo possiamo permettere. Ok, creiamo una rivendicazione. Qui una chiamata a me armi. Dobbiamo accettare. Allora, calma. Allora, dopo facciamo questo. Allora, dobbiamo attaccare qua. Va bene. E gli attacchiamo. Ma... No, aspetta. C'è un ligato guerra? No. Ok, vabbè. Vabbè, intanto aiutiamo i nostri... Perfetto. Perfetto, abbiamo aiutato il nostro anneato. Ok, è un momento, è un momento che possiamo adottare una nuova istituzione. Ma sì. Ma sì. Facciamo. Allora. Dividiamo la metà. No, ho sbagliato. Dividiamo la metà. Allora, metà va qua. Poi... Un altro va qua. Un altro va qui. Ed ora dichriamo guerra. Questi qua. Perfetto. Quindi rompiamo la nostra nette di spionaggio. Dichriamo guerra. Vangoro. Sì. I nostri... Ma... Perché non c'ho... Aspetta. Ora sì. Chiamiamo i nostri amigrati. Calma. Ok. Ok. Perfetto. Più di questo. Non ne ho quanto mag. Maggiamo tantissimo proprio. Ok. Abbiamo perso. Battaglia. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Ma sta naggando di brutto. Aspetta. Ma dov'è il nostro esercii di prima? Non c'è più. Quindi. Andiamo qua. A posto. Un po' di mercenari. Dove vorreste... Dove vorrete andare? Vediamo se riusciamo a fare la pace con questi. No. Va bene. Ok. Allora abbiamo fatto questa guerra. È andato un po' male all'inizio. Però ci stiamo riprendendo piano piano. Abbiamo 10.000 debiti. Abbiamo ridurro di molto la nostra inflazione. Mettiamo le tasse di guerra. Sapete com'è? Ok. Dopo un po' di guerra che abbiamo perso, poi vinto, cose così. E non vuole accettare. Eh già perché la devo liberare dai... Giustamente. La devo liberare dai... Ecco fatto. Prendo per la pace. Sì, ma facciamo pace. Però tu mi dovrei dare tantissime monite. Vabbè tu... Ti lascio là così. Dammi questo. Propone offerta, allora. Questo. Ecco fatto. Ok. Abbiamo la nostra richiesta. Oh, perfetto. Non era così difficile, no? Perfetto. Abbiamo queste tre... Terre. Come potete vedere. Abbiamo un rimbors... Possiamo rimborsarne 6 prestiti. Su... Tanti... Su 28. Cioè... Prima ne erano 34. Vabbè, con calma. Penso che abbiamo finito. Ah, sì. Abbiamo finito. Bene. Facciamo... Un altro trattamento severo. Un altro trattamento severo. Perfetto. Uff... Uff... Mamma mia. Immborsiamo in prestito. Perfetto. Molto bene. Finalmente possiamo utilizzare le nostre tecnologie. Molto bene. Molto bene. Non chiedevo di me... E di noi prestiti. Perché ancora devo capire. Usiamo il candidato diplomatico. Lo imborsiamo in prestito. Molto bene. Possiamo ancora migliorare le nostre tecnologie. Oh, perfetto. Molto bene. Dopotutto... È andato bene. Finalmente possiamo scegliere... Queste idee di esplorazione. Ok, perfetto. Molto bene, molto bene. Bene, ragazzi. Il video finisce qua. Con tutti questi prestiti che dovrò pagare. Con tutto... Tutta questa bella roba. Lo farò... Offline. E costruirò... Monti edifici. Così per... Avere più unità. Ah, ecco. Infatti adesso possiamo avere... Qualche unità in più. Facciamo... Sono uguale, quindi va bene. Ok. Va bene, ragazzi. Il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo conquistato i nostri ultimi nemici... Più potenti, ecco, per il momento. Nel prossimo episodio gli attacchiamo Ichi... E... E dovremmo comunizzare, insomma. E arricchirci, visto che prima avevamo mille... Più di mille monete, adesso ne abbiamo 56. Grazie per aver visto questo video e... Ciao ragazzi. E... 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 E...